Siccome pretendete di giocare al gioco della bottiglia, siamo tre femmini e due maschi, non ha senso! Io ci giocavo da solo! Come funziona il single player? È tipo così, io giro la bottiglia e faccio verità, obbligo, di solito dico verità, e dici di che cosa stai pensando? E di solito dico che sono triste perché sono solo e poi mi metto a piangere.